La leggerezza è qualcosa che è dentro di noi, fa parte della nostra natura. Ogni cambiamento è prima di tutto una decisione che troviamo in noi stessi. L'ho capito con il tempo, con l'esperienza. Non esistono pillole miracolose che diano risultati duraturi e ricette che si adattino a tutti. Ora ne ho la consapevolezza. Vivere in armonia con il proprio corpo è una scelta. Ho scelto di vivere leggera. Ho scoperto che si può. Ho scoperto che è bello, per me e per chi mi sta intorno. Ho scoperto un metodo naturale e in linea con la vita di tutti i giorni. Ho ritrovato la fiducia, giorno dopo giorno. Risultato dopo risultato. Non è un segreto, non è una magia. Io ci sono riuscita con il metodo Io vivo leggero.